Per salire sull'autobus serve il biglietto. Questa semplice osservazione è fatta ad un giovane accostata ad un autista di autoguidovia, una coltellata ad una gamba e quanto accaduto alle prime ore di martedì mattina all'interno dell'autostazione di Pavia sotto lo sguardo attonito di numerosi pendolari che erano appena arrivati per raggiungere la scuola e il posto di lavoro. La vittima era arrivata dalla Chiarella ed era scesa dal mezzo per la pausa quando è stato avvicinato da un ragazzo che stava per salire. L'autista ha quindi chiesto il biglietto ma il giovane per tutta risposta ha estratto un coltello e lo ha ferito. In suo soccorso sono immediatamente arrivati i colleghi che hanno chiamato il 118. Per fortuna le sue condizioni non erano gravi. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno inseguito e bloccato il violento. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di un soggetto che frequenta abitualmente la zona della stazione e dei terminal dal quale partono i bus e che non sarebbe nuovo ad azioni simili o comunque di disturbo della quiete. Proprio l'altro giorno sembra che abbia molestato delle persone mentre stavano andando a prendere il treno. Questo fanno notare i sindacati a soltanto l'ultimo episodio di una serie accaduta negli ultimi tempi nella zona della stazione. Quasi ogni giorno gli autisti sono vittime di aggressioni verbali, violenze e minacce. Ha detto Mario Perrotta, segretario provinciale della Will Trasporti, è necessario implementare la sorveglianza all'interno dell'autostazione e controlli delle forze dell'ordine, ha spiegato ancora il sindacalista.